Bella a tutti ragazzi e benvenuti nel mio canale, io sono Albe Iacoggi insieme a fratello Usa Tecnoid, Cate, dove cavolo sei? Stiamo andando ragazzi in un negozio che c'è a Bologna per andare a prendere delle cose americanesi Usa mi fa il fastidio, non riesco mai a parlare Andiamo a prendere un po' di schifezze, ma delle schifezze ragazze assurde Perché ieri Cate è arrivata a casa con delle cose che erano veramente improponibili nella natura umana Quindi ne vogliamo prendere altre Quindi mi raccomando, continuate a guardare il video e vi arrivate fino alla fine Non vi dimenticate di lasciare alcun commento con su scritto che altri scherzi volete vedere nella casa Ci vediamo fra un po', ciao! Cosa che devo comprare? No, allora, delle cose che ti consiglio io di comprare proprio schifose sono dei vermi Molto molto brutti, che se tu li assaggi, muori Scusa Ciao Di Dove stai andando? Sto andando in stazione a Bologna Stiamo andando in stazione a Bologna E non parlare bene cialiano Non parla italiano? No, cialiano Manca dici, dici giorni lavora niente Dove sei tu? Io di... Di Ocpaio... A te tu! È lontano? 50 km Ma viene a piedi ogni volta? Io venire con... Mucca Piccola No, è tu Oddio, ma sei alve, Iac? No 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 Chi sei? Non so niente Giuro No, no, è imbagliato Ti somigli troppo Scusa Eh, sai, ci somigli veramente un sacco Ti giuro, io lo seguo un botto Ma quello è incredibile Allora ragazzi, siamo arrivati nel negozio Madonna, è una bomba, Fra, è troppo bello Bello, i colori sono super mega sparati, ci sta Cioè, Fra, ma che spettacolo Guarda qua Ma, sono bellissime, Fra Zoro Tanta roba Eh, bisognerebbe fare la collezione Io ho un'idea per te Ok, vieni con me Tu lo sai che noi siamo poco pragmatici O troppo pragmatici Adesso non so neanche cosa voglio dire Pragmatici Noi esageriamo Noi vogliamo esagerare Esageriamo E allora io ti dico che fratello Alve, Iac oggi ti regala tutto quello che vuoi qua dentro Coraggio Giura Giuro, fratello Con la mia carta di credito in mano Eh, c'è la mia carta di credito in mano Eh, c'è la mia carta di credito in mano Eh, c'è la mia carta di credito in mano Eh, c'è la mia carta di credito in mano Eh, è vero che tu fai click Io ti regalo tutto quello che c'è qua dentro Vai Ah, faccio Vuoi scegliere tutto quello che vuoi Ah, beh, è il video di oggi questo È quello il video di oggi, fratello Io ti ho portato qua perché tu Ok, quanti secondi mi dai Quanti minuti oggi? Tre minuti, fratello Mettiamo il cronometro Senza magge Vuoi prendere tutto quello che vuoi Vai, avvialo Tre Due Uno Vai Partito Questo qua è ammaccato questo Dov'è uno fatto bene? Vabbè, perdi tempo, perdi tempo, perdi tempo Devi perdere tempo, devi perdere tempo Oh Oh Ma questo mi spanna proprio Mi manca Mi manca questo Oh, vai piano Oh, vai piano Questo, questo No, no, questo no Questo no Oh, vai piano Oh, avevi detto, avevi detto come Guarda qui I Digimon Oh, vai piano, vai piano Vai piano No, no, no Questo qua non lo voglio Questo qua non lo voglio Ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho Due minuti di qui Oh, manca Come sono già due minuti di qui Sai perché voglio questi? Perché così li metto dietro alla scrivania Capito? Ma, fra me Ma, ma, ho visto bene E fra me Quanti ne pensi? Aspetta, aspetta Mi sto scennando Guarda, guarda, guarda Bello, questo qua Il minuto 5 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 Ma non senti il peso della borsa? Qualcosa anche questo Questo manca Aspetta, questo manca Freezer, freezer, freezer Ma sta prendendo solo un attimo Freezer questo Sì, perché Un minuto 40 Un minuto e 40 Fracello Quanto siamo? Eh, no, bisogna prendere l'altro sacchetto Devi continuare Devi continuare Un minuto 11 Hai un minuto 11 Vai a prendere l'altro sacchetto Vai a prendere l'altro sacchetto No, no, no Basta questo Cioè, ma io prenderevo tutto Prendevo Ma non stai prendendo niente Muoviti Esatto, bravo Perché voglio prendere le cose funzionali Stai perdendo la cifra di tempo Aspetta Tempo, tempo, tempo Tempo 42 secondi 42 secondi Dai, quanto ci stai mettendo Sposta, sposta, sposta Muoviti, muoviti Dai, 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 dai Cosa stai prendendo? Ma l'ho preso giusto a casa Che per qualche momento Metti qua, metti qua, metti qua Metti qua, metti qua Tempo Quanto siamo? 22 secondi 22 secondi ancora Ma non sei capace a comprare la roba? Ragazzi, io prendo la roba che mi interessa E allora non va a caso Ma butta dentro No, questo non lo voglio Dobbiamo essere Dieci secondi Dieci No, vai, vai, vai Otto Sette Ma mi prendo la cassa È rientrato dentro? È rientrato Stop Ora dobbiamo andare alla cassa Quindi questa è la tua spesa Ma tu no Aspetta Ma questa è un ammazzo da me Ci ho mazzi qualcuno Ma l'ho capito Ma si lecca tutto questo? Non è una caramella unica? No, di un trepino Quindi questa è la tua spesa Questa attualmente è la mia spesa Bene Ok Io volevo dirti che non ho soldi nella carta Non è vero Sto scherzando Sto scherzando Continua a prendermi per il culo Questa è la tua spesa E io ti pago tutta la tua spesa Ok? Sì Ma posso cambiare delle robe? No, non puoi Sempre con lo stesso prezzo Che che te frega te? Puoi barattare? Sì Allora puoi barattare alla metà del prezzo Ci sto Questi sono dieci? Dieci euro, sì Perciò io posso andare a barattare Una cosa da cinque Ok Cinque euro? Abbiamo cinque euro, sì Ok, mi sono scordato che non ho preso questi Questo lo posso anche lui andare a barattare, giusto? Sì, siamo a quindici euro Hai otto euro Quindi sono altri quindici euro che hai da spendere Ok, ho altri quindici euro? Altri quindici euro da poter spendere, sì Uno Vediamo quelle fatte bene Uno Due Ma stai pensando solo per te? No, no No, no Sono per tutti Certo, come no Le voglio io pure Sei arrivato tardi, Cicci No, no Il negozio spacca veramente, ragazzi È veramente molto bello Ragazzi Siamo arrivati alla fine del video No, siamo arrivati alla fine del video No, siamo alla fine Ok, devi pagare Sì Alla fine del video Così se la vuole a scampare Siamo alla fine del video Cioè, non l'ho capito Mi hai fatto spendere 180 euro Ma sei tu che mi hai proposto la sfida Sì, ma 180 euro Ma dove... Ascolta, zero violenza Striscia Oh, e ti dirò 80 euro di bibite Io mi aspettavo... No, non solamente le bibite Anche la figura che poi metterò dietro alla mia libreria Ah, tu dici Abbelliamo con le... Lui farà con i tuoi soldi Ma la sua libreria Ma è la sfida che mi hai fatto tu Perciò è giusto così Commentate qui sotto nei commenti Se è giusto così E se questo video arriva a 10.000 like Mi tengo ad altri Perché se non ci arriviamo 10.000 like Entro 24 ore Ti offro la stessa challenge Ai 3 minuti Puoi comprare quello che vuoi 10.000 like Entro 24 ore Non ci arriviamo Io sto a posto Ragazzi per favore Mi raccomando Per favore ragazzi Io ti rovino Se tu fai questa challenge Compro... Prendi bancali del negozio Di alto Di porta alla cassa Tu lo sai che io Quel sacchetto là Non lo porto vero Usa tu porti quel sacchetto Per caso Lo sai che io non porto Quel sacchetto là Lo sai anche tu Tu per caso Dovevi portare quel sacchetto Scendi No Io non porto proprio niente Mi dispiace fra È la challenge Anche che poi ti fai Il mazzo da solo Guarda qui 170 euro Questa questa è Oh gli abacchi 170 euro Posso dire che sono Veramente belli fra Ma questo sarebbe uno spray Te lo devi spruzzare in bocca Proviamo Sì è buonissimo Adesso Vai Adesso Accendi Ma questo qua ti viene Proprio l'acido No se lo fai giù Lo faccio pure io Serio Vai vieni Lo stavano in bocca Vai Così Guardate Com'è Apri No È buono Che cos'è È buonissimo Assaggia Apri la bocca Wow Com'è Mi stanno andando fastidio qua Ti fa proprio male lì Com'è acido Ora ragazzi Chiudiamo il video qui Mi raccomando ragazzi Dovete vincere la challenge Dovete mettere 10.000 like Che ha detto Tech Perché ragazzi Con 10.000 like Lui rifa la stessa identica cosa Che ha fatto lui E io lo rovino Ragazzi Quindi arriviamo a 10.000 like Mi raccomando Ci vediamo nel prossimo video Vi voglio bene ragazzi Continuate a seguire il canale Let's go Let's go Grazie a tutti